Sono comunque tanti rispetto ai minuti che sono rimasti Questo è il gol dell'anno di Sissé Ha cercato la porta e l'ha trovata con una traiettoria pazzesca È vero che poteva essere più attento Cecca Ma questo è un super, super, super gol di Sissé Da non crederci, sembra dire C'è che gol di Sissé Collo esterno destro Bellissimo Bellissimo Poi Cecca ci mette del suo Perché lì doveva intervenire Se noi tutti siamo rimasti immagino ammirati Lui è certamente rimasto sorpreso